quattro parole per definire il festival intelligenza calore shock sorpresa il tema dell'edizione l'apocalisse crisi economico profezia maya beh assolutamente no profezia maya noi non ci crediamo neanche un po crisi economica senz'altro il noir ama molto riflettere sulla realtà prende spunto dalla realtà e naturalmente siccome la realtà in cui viviamo è quella di una praticamente apocalissi perenne e quindi dominata dalla crisi economica si crisi economica quali pro e contro di un festival multimediale sicuramente i contro sono che più mezzi hai e più fai fatica però sicuramente i pro sono molto molto maggiori arrivi meglio arrivi di più arrivi più lontano poi insomma noi per forza siamo multimediali cioè il genere è multimediale nasce da libri poi va nei film e i film generano altri libri e viceversa poi la televisione che prende sia dai libri che dai film poi il web insomma non si può fare a meno della multimedialità in questo genere sicuramente quali sono le sezioni più gettonate dal pubblico naturalmente il cinema è quello che attrae di più anche perché ha degli orari più favorevoli pomeriggio e la sera ci sono i due film di concorso che sono insomma le attrazioni maggiori ovviamente e gli incontri letterari ormai sono così molto seguiti ecco sempre di più il pubblico aumenta quanta gente richiama al festival e da dove vengono si aggirano intorno ai 5.000 la gente che arriva al festival viene soprattutto dal secondario ovviamente insomma dalla stessa come ayer poi da un po' da tutta la valle da osta da osta che è una città abbastanza abbastanza grande qualcuno viene anche da torino e poi ci sono gli ospiti che seguono il festival insomma da anni vengono veramente un po' da tutta italia soprattutto insomma dal nord chiaramente milano e torino in prima battuta però molti vengono da roma perché sono magari coinvolti con il cinema il noir è un genere molto seguito dal pubblico un tempo però era snobbato dalla critica da quanto non è più così quando la critica si accorta che aveva fatto un grande errore ma direi ormai da una decina d'anni insomma noi quando abbiamo iniziato quasi 20 anni fa insomma il noir esiste da 20 anni questa è la ventunesima edizione e abbiamo lanciato questo termine sì erano un po' tutti insomma dubbiosi devo dire che ancora qualcuno lo è insomma ancora c'è resiste questa così questo equivoco che sia comunque una forma di letteratura soltanto popolare d'evasione con noi cerchiamo veramente di togliere di sgombrare il campo da questo equivoco perché pensiamo intanto pensiamo che il genere non deve essere una gabbia ma soprattutto nel caso del noir è un po' una chiave di interpretazione un po' uno stile ecco la letteratura buona è sempre buona letteratura sì una decina d'anni direi che in questo periodo il noir si è abbastanza consolidato e naturalmente sono sempre i prodotti che lo provano cioè non è la moda insomma anzi la moda certe volte marcia contro quando ci sono invece dei prodotti buoni degli scrittori buoni che sono al contempo popolari ma anche apprezzati dalla critica non so uno su tutti in mente che ne so andrea camilleri piuttosto che insomma carlo lucarelli ecco degli scrittori che si sono affermati su tutti e due i fronti solo per citare degli scrittori italiani ma i casi sarebbero numerosi se andiamo all'estero ecco non so enigma anche il per esempio un grandissimo scrittore che sicuramente ha fatto del genere il suo veicolo principale ecco su questi scrittori e su questi prodotti su queste opere insomma questi libri non si può molto discutere di genere o non di genere di letteratura bassa o popolare insomma è letteratura e può essere solo buona o cattiva è possibile seguire il festival online il festival ha un suo sito web insomma da quasi dall'inizio insomma da molto tempo e quindi è sempre aggiornato poi vive anche nel mese precedente al festival grazie al premio scerbanenco perché la votazione della del premio scerbanenco che è una premio letterario che va al miglior romanzo italiano noir edito nell'anno c'è combinata una votazione tra una giuria letteraria e anche una giuria popolare che sono composta da da tutti i lettori che possono votare sul nostro sito e votano una quindicina di romanzi tra questi scelgono una cinquina di finalisti che verranno poi presentati durante il festival courmayeur ecco questo è un modo così anche di vivere il nostro sito in maniera attiva insomma e poi naturalmente lo usiamo per le tutte le news e gli aggiornamenti anche mettiamo i video durante il festival degli incontri delle pillole insomma dei riassunti di quello che hanno detto gli scrittori presenti o anche i registi intervistati così dai dai nostri collaboratori poi abbiamo ovviamente social network siamo presenti su facebook abbiamo la nostra pagina tipica attività di promozione ma anche di di discussione spesso ci sono dei post anche critici a cui volentieri rispondiamo insomma ci sono anche delle così delle discussioni o sul sul cose che non sono piaciute non vanno così nel festival o spesso e volentieri anche proprio su su questo premio ci sono dei lettori che insomma giudicano alcuni libri piuttosto che la il meccanismo delle votazioni eccetera insomma è una forma di così di apertura in cui crediamo ovviamente molto insomma credo sia molto importante anche inevitabile direi insomma arricchisce moltissimo il festival e penso che possa aprire a moltissimi altri fan che non riescono ad arrivare a curmai insomma anche a capire di più di questo genere magari a qualcuno che è solo incuriosito del genere tramite le nostre informazioni riesce ad allargare meglio la sua conoscenza ecco un saluto in stile noir ecco se non venite a curmai insomma mi picco a curmai insomma mi picco